Ed ora ci trasferiamo di nuovo a Porto Gruaro perché c'è ancora un ospite insieme al collega Padoano. Sì, c'è Angelo Tabaro, scusa la stavo chiamando Antonio, ma non Bertoncello. Angelo Tabaro, dunque, Bertoncello prima il sindaco di Porto Gruaro ha detto che l'incontro di oggi si è risolto con un nulla di fatto, cosa che lei può altrettanto confermare. Ma è chiaro perché Bertoncello non ha capito che il problema non è un problema di sedi e di poltrone, è un problema politico. Noi riconosciamo che lui è il sindaco, però lui deve riconoscere che al primo turno il 50,15% di 7 mila elettori e non il 52% di 6 mila elettori, come sono quelli, cioè il 10% in meno che sono quelli che hanno votato lui. Quindi la stragrande maggioranza per noi degli elettori di Porto Gruaro ha dato un indirizzo politico, che è quello del centro-destra, è quello dei partiti che hanno sostenuto la mia lista, le mie liste. Ora, è evidente che noi riteniamo di dover dare risposta a quei cittadini partecipando attivamente all'amministrazione. Siamo disponibili a partecipare all'amministrazione, però lui deve riconoscere il nostro ruolo. Noi valuteremo, adesso se tutto è bloccato, perché poi alla fine oggi tutto è bloccato, lui si è fatto la giunta senza giuramento, senza consiglio, quindi senza l'organo di indirizzo e di controllo, lui va avanti però facendo piccole cose, ma questo è per l'ultima sua, perché loro hanno fatto i ricorsi al Tare, i ricorsi al Consiglio di Stato. Senta, ma il fatto che l'attività si afferma, questo si ripercuote, non so, sulle aziende, sulle attività commerciali, su chi magari deve chiedere l'amministrazione, l'acquisto di un terreno? Probabilmente si ripercuote sulle promesse che il sindaco ha fatto in campagna elettorale e che non potrà mantenere, perché in questo periodo non ha gli strumenti per mantenerle. Non credo che incida oggi come oggi sulle aziende, in quanto la politica vera comincerà a settembre. In quel momento credo che tutti noi valuteremo anche gli strumenti per garantire la governabilità del Paese, ma nell'interesse dei cittadini e del voto espresso dei cittadini. Ringraziamo dunque Angelo Tabaro per il suo intervento, la linea alla redazione centrale. Grazie. Scusa, vorrevo intervenire io facendo una semplice domanda a Tabaro. Io ho seguito la vicenda come ce la racconta ogni volta nel collega da Portogruaro, ma non capisco per quale motivo non si prende una decisione abbastanza semplice da parte di quella che adesso è l'opposizione, facendo andare a casa tutto il Consiglio e tornando alle elezioni, perché forse sarebbe la cosa più semplice e ovvia. Sì, ma il Consiglio Comunale, il Vice Direttore, non si è ancora insediato. Ho capito, però... Il problema è che noi siamo, diciamo, consiglieri, non consiglieri, nel senso che il Consiglio di Stato deve ancora decidere, diciamo, su una prima decisione ha dato la sospensiva di una sentenza che aveva dato il Tar e quindi il verbale della Commissione elettorale centrale, che aveva proclamato gli eletti, è sospeso. Noi siamo consiglieri a seguito di quella proclamazione. Essendo sospesi a quella proclamazione, noi non possiamo fare nessun atto da consiglieri finché non viene riconfermata la validità di quella proclamazione. E tutto questo dipende dai ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato che ha fatto Bertoncello e i suoi partiti, perché noi non li abbiamo fatti noi, i ricorsi. Chiaro, bene, è stato molto chiaro, quindi ha tolto anche questo minimo dubbio che restava chi, come me, da Pordenone segue la vicenda, tra virgolette, di rimando e quindi magari qualche passaggio non era ancora chiaro. Grazie ancora al nostro ospite, grazie a Rosario Padovano. Andiamo avanti ancora con le notizie.